Missione compiuta. Con la pesantissima vittoria esterna alla Mandela Forum di Firenze in rimonta per 3-1, la Igor si assicura un posto nella semifinale play-off. Azzurra è trascinata dai 34 punti di una stratosferica Paola e Gonu, di cui 11 nella terzo parziale con l'83% di efficienza in attacco, e dai 21 della coppia di centrali Kirichella-Ghibbenmaier, capace di reagire la squadra di Barbolini dopo un primo set assolutamente negativo, perso 25-17, al cospetto di un'avversaria protagonista di una prestazione di altissimo livello. Le azzurre poi hanno reagito nel secondo, nel terzo e nel quarto parziale, anche se Firenze ha reso la vita difficile fino alla fine alle campionesse d'Italia. Ora Novara aspetta di conoscere la propria avversaria in semifinale, decisivo nel quarto tra Busto Arsizio e Monza il match di spareggio che si giocherà mercoledì sera al Pala Yamamai. Complimenti alle nostre avversarie per averci messo in difficoltà per tutto l'arco del match e complimenti a noi, l'analisi di Barbolini, per essere riusciti a conquistare la vittoria che ci consegna l'accesso in semifinale. Nella primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi va riconosciuto merito alle nostre avversarie per aver tenuto un livello di gioco davvero altissimo. Noi siamo cresciute in difesa e a muro, abbiamo lavorato bene e nei momenti decisivi siamo riusciti a fare la differenza, conquistando così la semifinale.